Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Apriamo con la A1 dove per un incidente si sono formati 7 km di coda tra Firenze Scandicci e Barberino in direzione Bologna. Sulla FIPILI per viabilità esterna che non riceve rallentamenti tra Lastra, Signa e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione, restringimento di carreggiata dal km 47 al km 50. La viabilità cittadina a Firenze a causa di un incidente, restringimento di carreggiata e coda in aumento in via Bolognese Nuova. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!